Buonasera, benvenuti a ETG Emilia Romagna. In apertura la cronaca perché ci sono novità sull'omicidio dell'elettricista di 44 anni assassinato nella propria abitazione in provincia di Modena con un colpo di fucile. Poco fa infatti è stato arrestato il fratello che non ha ammesso l'omicidio ma ha confermato di aver spostato occultando la presunta arma del delitto. Facciamo il punto in questo servizio. È stata una fucilata al petto a uccidere Gerardino Di Stasio, l'elettricista di 44 anni trovato morto ieri intorno alle 18.30 in una pozza di sangue nel suo appartamento di appalto di Soliera nel Modenese. Probabilmente il delitto si è consumato nella giornata di mercoledì. I carabinieri non hanno notato segni di effrazione. Nell'abitazione è una palazzina di via appalto occupata in questo periodo solo da Di Stasio. La casa si presentava in disordine ma l'ipotesi della rapina degenerata non pare per ora attendibile. A scoprire il corpo senza vita dell'uomo originario di luogo sano nella Vellinese è stato Michele, uno dei suoi sei fratelli, chiamato dai vicini che avevano scorto dalle finestre la sagoma di una persona a terra dentro lo stabile. E proprio il fratello è stato poco fa arrestato con l'accusa di ricettazione, porto abusivo d'armi e favoreggiamento. Gli inquirenti che indagano sull'omicidio hanno trovato il fucile che presumibilmente è stato usato per uccidere Di Stasio. Era in una rimessa vicina all'abitazione dell'elettricista dove questi è stato assassinato. Il fratello, dopo un lungo interrogatorio in caserma a Carpi, ha confermato di averlo spostato prima del suo ritrovamento. Nega però di aver commesso il delitto. Già nella serata di ieri l'uomo era stato sentito a lungo come persona informata sui fatti. Di Stasio viveva solo dopo che la moglie e i due figli di 9 e 2 anni erano di recente tornati al sud e, a dire di alcuni conoscenti, aveva avuto ultimamente qualche difficoltà sul lavoro dovuta alla crisi. Il primo dell'anno aveva però visto i familiari ed era sembrato sufficientemente sereno. Nel passato della vittima c'era un piccolo precedente per l'utilizzo di assegni irregolari. Ancora cronaca è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni del nipote, un bambino di nemmeno 10 anni, lo zio di 45 anni in un comune della provincia di Reggio Emilia. I carabinieri lo hanno bloccato ieri eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. Secondo il capo di imputazione l'uomo avrebbe abusato della sua autorità di zio convivente con la famiglia del bambino e approfittando della momentanea assenza dei genitori costretto il nipote dietro minaccia a diversi rapporti. Il provvedimento lampo firmato dal GIP è stato trasmesso ai carabinieri reggiani che nel primo pomeriggio di ieri hanno arrestato l'uomo, poi condotto nel carcere di Reggio Emilia. Cambiamo argomento, c'è attesa per l'arrivo domani a Reggio Emilia del premier Mario Monti in occasione della festa del tricolore. Per domani sono annunciate anche proteste in piazza contro la manovra economica del Presidente del Consiglio. Scenderanno in piazza appunto Federazione della Sinistra, Lega Nord e Indignati. Intanto questa mattina abbiamo parlato della festa e della manovra con il segretario della UIL di Reggio Emilia, Luigi Angeletti, durante la nostra rassegna stampa condotta da Francesco Spada. Un Angeletti che è apparso amareggiato per l'apparente disinteresse di Monti per i sindacati. Sentiamo. Noi abbiamo chiesto al professor Monti se ci dedicava un incontro per parlare dei problemi del territorio di Reggio. Non credo che questo sia possibile, però abbiamo preparato un documento per potergli consegnare in modo che anche lui si renda conto dei problemi di Reggio Emilia. Ecco ma non crede perché la giornata è molto intensa o perché in questo momento con i sindacati il rapporto è un po' delicato? Ma vedo che non ha una grande spinta a parlare con i sindacati, lo vedono anche a Roma. Forse sarebbe meglio, diciamo, che se la facesse venire. Quindi noi abbiamo spinto per fargli capire anche questo aspetto del problema. Cosa la preoccupa di più della manovra Monti, diciamo così, il riflesso sulle... La manovra Monti mi preoccupa tutto. Tutto. Nel senso che io non ho ancora capito, ma perché ho il cervello piccolino, evidentemente. Chi dice così è sempre molto pericoloso. Io sono laureato sulle strade, non alla Bocconi, però non capisco come si possa sviluppare l'economia facendo esattamente il contrario di quello che bisogna fare. Io non ho mai visto il rilancio di un paese tagliando i salari, le pensioni, aumentando le tasse e creando condizioni di difficoltà per chi lavora. Credo che sia una strada esattamente contraria a quello che bisognerebbe fare. Detto questo, oggi è molto più chiaro che molto probabilmente i problemi sono tutti legati a un mal funzionamento dell'Europa, sia politico che della Banca Centrale Europea e quindi questo viaggio immediato del professor Monti. Il problema qual è? Che la gente non vede quando finiranno questi sacrifici, se c'è un'utilità vera di questi sacrifici e quindi questo diventa un problema serio per la gente. Diversi motivi di interesse della festa del tricolore di domani, dunque con Mario Monti, festa del tricolore che sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente da Piazza Prampolini a partire dalle 10 e 30. Ancora nessuna notizia invece dei due fratellini rom di 5 e 10 anni portati via da una struttura della comunità di accoglienza Osea a Reggio Emilia l'altro pomeriggio. I due bambini erano arrivati nella stessa giornata, due uomini descritti come alti, giovani e con la carnagione olivastra si sono introdotti all'interno con l'aiuto del fratellino più grande che ha aperto la porta. I due uomini hanno preso i fratellini e hanno fatto perdere le loro tracce. Gli operatori si sono subito accorti della sparizione e hanno chiamato la polizia che ha avviato la ricerca dei due fratellini rom anche nelle abitazioni dei parenti ma senza esito. L'ultimo pagina, secondo una norma contenuta nella manovra Salva Italia saranno vietati i pagamenti in contanti superiori ai 1000 euro. Un problema per i tanti pensionati che riscuotono la pensione in contanti allo sportello e che non hanno un conto corrente. Per gli emiliano-romagnoli interessati ci sono però diverse soluzioni messe a punto dalle banche e soprattutto dalle poste. Per esempio a Reggio Emilia circa 21.000 pensionati hanno scelto l'accredito sul libretto postale nominativo. Ma vediamo insieme tutte le modalità. 7 marzo 2012, una data da assegnare sul calendario perché in base alle nuove norme stabilite dal governo Monti non sarà più possibile ritirare in contanti presso le banche le pensioni di importo superiore ai 1000 euro. Sarà quindi indispensabile avere un conto corrente bancario o postale o una carta prepagata ricaricabile. L'Inps ha scritto ai 450.000 pensionati interessati del nostro paese perché provvedano a cambiare le modalità della riscossione. Entro febbraio i pensionati interessati dovranno comunicare in che modo si desidera ricevere la pensione. Molti istituti bancari si stanno attrezzando al fine di non far pagare spese per un periodo che va da sei mesi a un anno. Le poste italiane invece comunicano che sarà possibile accreditare i soldi anche sui libretti postali nominativi. L'accredito sarà gratuito quindi senza spese di apertura e di gestione, né in posta di bollo e con una card gratuita per i prelievi. Resta possibile anche incassare la pensione sul conto corrente postale. In questo caso sono azzerate le spese di tenuta conto per tutto il 2012 per i pensionati con più di 65 anni che accreditano entro il 31 marzo 2012 la pensione. Prevista anche un'assicurazione gratuita che copre fino ad un valore massimo di 700 euro l'anno contro il furto di denaro contante entro le due ore successive al prelievo. Oggi giorno dell'Epifania sono stati diversi gli appuntamenti di festa e le celebrazioni liturgiche che si sono svolte in Emilia Romagna. A Bologna nonostante il vento freddo in tanti si sono recati in centro per il presepe vivente e per la Befana. Vediamo. La festa dell'Epifania a Bologna è cominciata alle 10 del mattino con la visita del cardinal Caffarra, presidente della conferenza episcopale dell'Emilia Romagna all'istituto ortopedico Rizzoli cui è seguita la messa nella diacente chiesa di San Michele in Bosco. Più tardi alle 11 è stata la volta della Befana della Casa dei Risvegli, l'attrice Carla Stolfi che è arrivata sotto le due torri a bordo di un calesse trainato da un'asina. Accanto a lei il consigliere regionale Maurizio Cevenini. La Befana si è intrattenuta per qualche minuto con i bambini ai quali ha donato Dolciumi. L'iniziativa, oltre che dall'Associazione Amici di Luca, è stata organizzata da CNA. Nel pomeriggio è stata la volta del grande corteo dei magi. Oltre 100 figuranti in costume, tanti animali esotici, compreso un elefante, hanno rievocato l'arrivo dei tre re magi presso la Mangiatoia di Betlemme con la Sacra Famiglia. Era presente l'Arcivescovo di Bologna, il cardinale Carlo Caffarra, che poi più tardi alle 17.30 ha preseduto nella Cattedrale di San Pietro la Santa Messa nella solennità dell'Epifania, detta Messa dei Popoli. Alla luce dell'esperienza dei magi possiamo renderci conto di quale sia l'insidia più subdola della fede, ha detto l'Arcivescovo nell'Omelia. È la mutilazione della nostra umanità, che assume solitamente due attitudini. La prima è di restringere l'uso della nostra ragione a ciò che è constatabile, misurabile e verificabile. La seconda mutilazione consiste nel restringere la misura del nostro desiderio, nel continuare a cercare ostinatamente la propria beatitudine esclusivamente nei beni creati. Una breve notizia di sport, in particolare di basket. Ieri sera è stata disputata la quattordicesima giornata di Lega 2. La Conad Bologna è stata sconfitta in casa dall'Enel Brindisi per 82 a 89, mentre la Trenkwalder a Reggio Emilia è andata a vincere in trasferta contro l'Aget Service Imola con il punteggio di 86 a 77. La Trenkwalder domina in solitaria la classifica del campionato cadetto con 20 punti. E siamo adesso al teatro con un genere sempre molto apprezzato dal pubblico, il musical. Domani e martedì infatti all'Europa Auditorium di Bologna arriva Happy Days, il nuovo musical della Compagnia dell'Arancia. Un'anticipazione con Alessia Salvatori. Il 7-8 gennaio torna a Altea il musical con Happy Days, naturalmente una nuova lettura con nuovi protagonisti, però insomma il musical è sempre una cosa molto molto apprezzata, anche quando riprende come in questo caso un serial televisivo che ha avuto un grandissimo successo a suo tempo. Assolutamente sì, Alessia. Apriamo il 2012 con un musical, questo è per noi assolutamente importante, essendo per noi il musical una delle nostre identità, è la nostra carta identità principale del Teatro Europa. Lo apriamo con una produzione amica, che ormai considera il Teatro Europa la propria casa, quindi che è la Compagnia dell'Arancia, che quest'anno ha allestito un evergreen, tratto ovviamente da una serie tv che è stata tra le più amate degli anni 80, Happy Days. L'ambientazione ovviamente, c'è stato un grande lavoro scenografico proprio per riportare l'ambientazione alla Milwoki degli anni 50, ovviamente in compagnia di quella famiglia che ha fatto sognare intere generazioni, che era la famiglia Cunningham. La Compagnia dell'Arancia non è nuova per l'appunto musical, l'ha fatto anche Cats, giusto? Ed è venuto anche qui al TEA. Assolutamente sì, ma la Compagnia dell'Arancia è la prima produzione in Italia di musical che vanta anche un riconoscimento a livello internazionale. Basti pensare a Grease, Cats, di pochi mesi fa è stato lo sbarco della Compagnia dell'Arancia a New York, proprio con Pinocchio interpretato da Manuel Frattino e quindi per una volta diciamo che sono gli italiani a espottare il Made in Italy in un genere che è sempre stato anglosassone, che è quello del musical. Era questo l'ultimo servizio, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito e auguro una buona serata.